Ben trovati al nostro nuovo appuntamento per pillole di pratica, 5 minuti al giorno o poco più per fare il focus sulle nostre discipline. Incontri come ricordo sempre senza spiegazioni, importante praticare così come riusciamo, così come ci ricordiamo. Continuiamo il lavoro dello scorso incontro sul parrocino, il pezzo di croccato e vediamo altri movimenti che fanno parte di questa serie. Grazie a tutti. 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 Per questo incontro di Pillole di Pradica è tutto. Vi do appuntamento al prossimo momento di Pradica con Elisa e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.